Benvenuti su Calcio360, il posto giusto per chi ama il calcio. Una clamorosa confessione di Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport fa infuriare e non poco giuntoli e solleva dubbi ed interrogativi sul futuro prossimo della Juventus. Guarda il video per intero per scoprire tutti i dettagli di questa sconvolgente notizia ma prima di iniziare vi invitiamo ad iscrivervi e attivare la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio. Juventus e Milan su Cia Giumotta, giuntoli però smentisce contatti, riporta Ivan Zazzaroni sulle pagine del Corriere dello Sport. Il tecnico del Bologna attrae l'interesse sia dei bianconeri che dei rossoneri, nel caso di una rottura con i loro attuali allenatori, Allegri e Pioli. Si sussurra di possibili contatti tra Motta e Giuntoli. Ecco quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Giuntoli smentisce e subito dopo si infuria per il solo fatto che intende evitare qualsiasi forma di destabilizzazione interna, non tollera di essere accusato di scorrettezza nei confronti dell'allenatore. Ma Cia Giu è un pallino di Giuntoli e non è casuale il fatto che l'estate scorsa sia stato avvicinato da Aurelio De Laurentiis. Ma la pista azzurra è di nuovo esclusa per l'estate, come svelato da Dario Canovi, il padre dell'agente amico Alessandro, Cia Giu non conosce ancora il suo futuro. Non andrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirksi e Calafiori, ha concluso Ivan Zazzaroni sull'attuale tecnico del Bologna. Cosa ne pensate di Cia Giu Motta sulla panchina bianconera? È l'uomo giusto per sostituire Allegri o andreste su qualche altro profilo? O continuereste con Allegri come guida tecnica? Se volete condividere la vostra opinione, lasciate un mi piace e fatecelo sapere in un commento. Iscrivetevi e attivate la campanella per sostenere questo canale e non perdervi i nostri prossimi video. Un piccolo gesto per voi ma di grande importanza per noi. Grazie amanti del calcio.